Buongiorno, un saluto a tutti gli Home Lovers in ascolto e benvenuti alla dodicesima diretta di Home Lovers Live Talks. Oggi con me ci sono Cristiana, abbiamo degli inserimenti audio non previsti, Cristiana Rosada, blogger di Moda Arredamento e la nostra special guest, eccola qui, Antonella Sivalieri, consulente colore, ciao, benvenuta, e blogger di LaColoratrice.com. Benvenute ad entrambi. Ciao, ciao Antonella, ciao Sonia, benvenuta Antonella. Ecco, la puntata... Grazie mille, ciao. Antonella è la collega di Francesca che abbiamo conosciuto la volta scorsa nella puntata dedicata, scusate, nella puntata dedicata ai mobili, alla colorazione e al restauro dei mobili. E oggi invece Antonella ci parlerà in particolare delle pareti e non solo, perché parleremo anche di altro. Non so se Cristiana tu volevi accennare qualcosa prima di passare la parola ad Antonella. Sì, volevo solo dire che io logicamente ho già un attimino visto le cose che ci presenterà Antonella, quindi consiglio di rimanere collegati perché ci sono veramente delle cose interessanti, non solo dal punto di vista delle decorazioni, ma anche di quelli che possono essere dei piccoli trucchi o dei piccoli segreti, logicamente in questo caso dettati da una professionista come Antonella. E niente, vorrei lasciare la parola ad Antonella per la sua presentazione delle decorazioni, le soluzioni di decorazione per le pareti. Benissimo, Antonella vuoi dirci tu e magari introdurre chi non ha seguito la live dall'altra volta chi siete, che cosa fate, la coloratrice è un blog appunto, ma non solo. Esatto, è un blog dove siamo io e Francesca, che avrete visto nella puntata precedente, e ci occupiamo di decorazione, decorazione a tutto tondo, nel senso che ci occupiamo di restyling dei mobili, che Francesca appunto vi ha presentato, e ci occupiamo anche delle pareti. Partiamo dalle pitture classiche normali, fino ad arrivare anche a decorazioni un pochettino più complesse, e cerchiamo nel nostro blog anche di essere esaudienti quando le persone ci chiedono anche delle problematiche che possono riscontrare tutti i giorni. anche perché questo blog viene seguito dai professionisti, da quelli che insomma si cimentano magari per la prima volta e anche insomma da persone che comunque lo stanno, cioè già decorano oppure già dipingono a casa, però si trovano di fronte a delle problematiche e noi siamo diciamo a disposizione loro per dare insomma dei consigli. Dunque per quanto riguarda la decorazione, noi abbiamo diciamo la decorazione artistica, che è quella diciamo a pennello e anche a ideografo, e abbiamo invece quella che noi facciamo con i prodotti decorativi. Noi testiamo i prodotti, perché? Perché prima di poterli consigliare o capire insomma quali possono essere le problematiche e su quale i muri insomma sono più adatti, prima li testiamo noi. Quindi il nostro compito maggiore è proprio quello. E quindi poi abbiamo anche su YouTube, facciamo dei tutorial in modo da cercare, insomma cerchiamo di essere completamente a disposizione per tutte le situazioni. Vuoi condividere un po' le informazioni? Esatto, che le vedo in preparazione. Esatto, se vuoi le mostriamo così magari anche chi ci segue. Eccole adesso, un attimo che i mezzi della direzione sono, quindi eccole qui, è in arrivo. Eccoci, già una cosa, una poltrona sulla che riconosco mi sembra. Prova a spostarsi. Allora, ce l'ho proprio qua alle mie spalle, come vedete, sia la poltrona che il muro, perché appunto come ho detto testiamo i prodotti, quindi perché non le nostre pareti in primis. Allora, in questo caso partiamo dalla seconda foto in basso, che appunto rappresenta praticamente una decorazione molto molto bella, perché rappresenta l'effetto ruggine, ma è materica, cioè non è l'effetto ruggine semplicemente liscio, ma sotto della componente materica. Quindi prima viene dato un fondo, poi viene steso il prodotto materico e dolcissimo in fondo si va a colorarlo e a dare queste sfumature. Invece la foto sopra è un effetto che riproduce il tessuto. Anche questa è un'altra pittura decorativa molto accattivante, che mette in risalto le pareti. A volte non serve farle, diciamo tutte quelle, anzi di solito lo sconsigliamo, fare le pareti così importanti su tutte e quattro le pareti di una stanza, ma generalmente cerchiamo di evidenziare una parete o un qualche cosa che deve essere messo in risalto all'interno della stanza e poi si fanno delle pitture generalmente decorative come contorno, in modo che così questo proprio viene messo in risalto. Si utilizzano degli attrezzi apposta per poter ottenere questi risultati. Ve ne faccio vedere anche un'altra, questo è un effetto che magari è un po' più conosciuto che è un effetto pietra. Bello, peccato che non riesca forse a ingrandire tantissimo, però è veramente bello. Cosa che ti interrombo Antonella, l'effetto ruggine è fatto a pennello? Sì, l'effetto ruggine è fatto principalmente a spatola, cioè la parte di matericità che viene stesa, viene stesa a spatola, una spatola d'acciaio. Dopo l'asciugatura allora si procede con la spugna o il pennello in maniera tale da poter dare queste sfumature che sono del tutto in base, cioè vengono fatte con l'estro di chi lo applica. Statistiche quasi, certo. Sì, perché lì c'è proprio spazio alla creatività, perché uno può fare, anche come in questo caso, queste venature. Se io stessa dovessi fare la stessa parete non mi verrà mai uguale, perché comunque dipende anche dall'umore, insomma, se uno è più o meno arrabbiato. terapeutico. Ma sì, perché no. Allora, oggi per me non sarebbe giornata, cioè se vengo su oggi a farle io, ciao. No, ma magari vengono meglio, perché? Per fare le cose terrificanti. E quindi anche questo effetto marmo ha un doppio passaggio? Sì, allora, ricordatevi sempre che per quanto riguarda i decorativi c'è sempre un fondo, che il fondo è idoneo e il fondo, che sembra una stupidata perché viene steso a rullo, è quello che è la base di tutto. Un cattivo fondo fa venire fuori un cattivo risultato, quindi bisogna utilizzare un fondo idoneo in base al tipo di parete che si trova, insomma. E una volta steso questo fondo, che è a rullo, semplicemente si va a procedere col materico, che generalmente è in colore, ma si può anche colorare. In questo caso era in colore, con un attrezzo si fanno queste venature e una volta asciugato il tutto si procede con la pittura, che viene fatta a pennello, ripeto, o a spugna e si possono sovrapporre vari colori, quindi creare ulteriori sfumature, si possono fare monocolore, altre colori, insomma dipende dall'esigenza che uno ha, ma ovviamente tenendo sempre molto occhio all'ambiente. Quindi deve essere tutto sempre molto armonico, non deve essere dettato al caso, ecco, quindi questa è una cosa... Quindi voi quando entrate, diciamo, dal cliente, comunque gli date anche il suggerimento di quale parete secondo voi è la più indicata per questo tipo di finitura, piuttosto che quanti colori utilizzare, perché penso che magari anche la parte di consulenza e consiglio sia importante per questi decorativi. Assolutamente sì, perché vabbè, allora, chi già applica vede magari qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso, chi non applica, decorazioni come queste conviene farle fare a chi è del settore, però sono dei validissimi spunti per capire un po' le ambientazioni. Noi le utilizziamo molto, oltre a queste foto ovviamente anche altre, per fare la consulenza ai nostri clienti, perché ovviamente sono sempre un po' disorientati, quindi li prendiamo tra virgolette un po' per mano e cerchiamo di valutare l'ambiente insieme, rispettando il gusto personale della persona, il tipo di stile, ma cercando appunto di dare un colore idoneo, l'effetto idoneo e soprattutto la collocazione idonea. Qua non si vede, ma ad esempio qua dentro ci sono anche dei mini glitter molto piccoli e sulle foto è difficile riprodurre questa… Sì, sicuramente l'effetto glitter. Esatto, però consigliamo, se uno vuole evidenziare questo effetto glitter, di posizionare anche delle luci idonei, perché più vengono illuminate e più questi risaltano. Assolutamente sì, anche l'illuminazione è importantissima poi per risaltare la decorazione senza dubbio. Certo, poi insomma andiamo anche un po' oltre, perché ci divertiamo anche con delle cose un pochettino più particolari, perché oltre alla decorazione, questi sono stati alcuni esempi, ce ne sono tantissimi, anche decorazioni un po' più semplici che magari anche uno che inizia può provare. Poi si passa a una decorazione vera e propria con… questa è una cameretta, è una cameretta dove è stata fatta a pennello e anche con l'erografo, in poche parole, cercando… Decoro artistico questo, è un quadro alla fine? Sì, sì, questo qui prende tutta la parete e anche l'angolo, come vedete a lato, e per una cameretta appunto di un bimbo si cerca di creare la tridimensionalità, di adattare insomma all'ambiente anche questo, cercando di scegliere anche il personaggio che piace al bimbo, ecco. Ovviamente, ci sono maggiori richieste che ci possano essere… Sì, 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 assolutamente. Poi dopo viene… noi generalmente andiamo anche a proteggere il dipinto con un protettivo trasparente in modo tale che anche il bambino, visto che è sempre un po' magari scalmanato, se dovesse sporcarlo, è assolutamente lavabile, quindi c'è anche questa praticità, insomma. Ecco, noi non facciamo solo decorazioni, nel senso che facciamo vedere quello che si può arrivare a fare, perché sono molteplici, ma cerchiamo, come dicevo prima, anche di essere un aiuto per quanto possibile anche ai privati in modo particolare, perché magari si cimentano a fare anche delle imbiancature molto semplici, ma si trovano di fronte a delle problematiche di ogni genere, che possono essere… Mi vedo, se non sbaglio, della muffa, ho sbaglio, no? No, no, non sbaglio affatto. Non sbaglio, forse perché ce l'ho avuta a giro in casa ed è stato un delirio farla andare, per cui l'ho riconosciuta subito, muffa. Purtroppo questo è un problema che hanno un pochettino tutti e quindi anche qua cerchiamo di consigliare al meglio, questo è un bagno, un bagno che era veramente in una situazione penosa e noi consigliamo non solo il tipo di pittura o cosa fare per poter andare a risanare l'ambiente, diciamo così, ma c'è tutta una problematica che magari tanti non sanno. Allora, questa è una problematica classica del bagno cieco, dove praticamente non essendoci lo sfogo della finestra, cioè magari quella ventolina, magari a volte alquanto rumorosa… Che dovrebbe superire il ricambio d'aria, ma realtà non è così, insomma. Non è quasi mai così. Allora, in questo caso ci sono varie problematiche da risolvere. Uno è quello di, nel caso in cui uno abbia una finestra, di areare assolutamente l'ambiente, tutte le volte soprattutto che si fa la doccia o il bagno che sia, e areare, appena si finisce tutto, soprattutto in inverno uno è un po' pighiero a farlo, ma conviene farlo perché questo evita appunto la connessa. Per i bagni ciechi, come dicevo prima, non è proprio così scontato perché ci sono queste ventoline un pochettino così. Allora, la cosa principale in questi ambienti è utilizzare dei prodotti donnei. Ci sono prodotti traspiranti e non solo, ci sono prodotti che sono altamente traspiranti, hanno all'interno addirittura delle microsfere di cristallo o di vetro che praticamente creano questa sorta di areazione un pochettino più, come posso dire, più specifica rispetto al classico traspirante che troviamo in commercio. Ovviamente cambiano i prezzi, però uno non dico che risolve la questione, perché a volte è una questione anche del muro che troviamo, dell'aria fredda che incontra la parete che all'interno ha del calore e quindi si formano queste goccioline di condensa. Però queste pitture tecniche specializzate che servono proprio per questa risoluzione di problemi, sono dei prodotti che perlomeno rallentano la formazione della pittura. Quindi puoi dire Antonella più o meno quanti anni può durare un trattamento del genere se parliamo di anni, calcolando di un bagno cieco classico, perché sappiamo che non è eterno il trattamento antimunfa, però magari un po' di tempo in più rispetto a un trattamento normale. Sì, allora ci deve essere un'abbinata, utilizzare a questo punto una pittura traspirante con le microsfere, areare l'ambiente, se non c'è la possibilità di areare come nei bagni ciechi, conviene mettere quelle scatolette deumidificanti, se non addirittura un deumidificatore, che aiuta questa ventola, insomma, ecco questa ventolina. Questo è il sistema più idoneo e possiamo arrivare a tre anni, barra cinque, dipende, però ci tengo a precisare di non credere a chi vende un prodotto dicendo guarda con questo risolvi tutto. È una risoluzione momentanea. Anche io ho una lavanderia dove stendo i panni e ho notato che è stato il primo posto, proprio dove si stende la biancheria, quindi l'umidità di risalita della biancheria, in inverno, come dicevi te, con la pigrizia di non aprire le finestre, è stata proprio la prima stanza dove la muffa si è fatta vedere proprio sotto le finestre. Effettivamente, anche se era una lavanderia, quindi non c'era la doccia dove facevamo la doccia, ma c'era semplicemente il lavaggio dei panni e la stesura, l'umidità ha fatto i suoi danni, insomma. I suoi danni, sì. Il problema è che, se devo essere sincera, quella sarebbe una cosa da non fare, perché è molto, molto, aiuta molto, molto la crescita di questo problema, lo stendino, gli stendini. Sì, lo stendino all'interno, sì, e soprattutto, e d'inverno cosa fai quando ci sono quei mesi che piove, piove, piove. Lo so, lo so, purtroppo questo è l'unica reare, è un problema, ripeto, comune. Quindi, prima di andare comunque a stendere una pittura, come abbiamo fatto poi e dopo, ovviamente bisogna pulire con i prodotti idonei la muffa, non sfregare ma tamponare, lasciare asciugare bene, magari riprendere, rifare una seconda volta questo trattamento, quando è tutto bello asciutto si può procedere alla stesura del prodotto. Dal trattamento al prodotto consiglio almeno 24 ore. Certo. Quindi, scusa, ti domando, tu sei sicuramente un'esperta, si sentono online tante ricette della nonna contro la muffa, chi dice l'utilizzo della varacchina, chi di altri prodotti fai da te. Possono essere, cioè, io non penso tu li consigli per trattare la parete prima di pitturare. Io per trattare, io mi affido generalmente dei prodotti specifici. Io sono sempre dell'idea che è meglio spendere un soldino in più, ma essere tranquilli per quanto riguarda l'efficacia. Poi, ci sono persone che questi prodotti non li regolano, che comunque sono a base anche di candeggina, e parliamoci chiaro, però hanno delle componenti. Sì, si possono utilizzare anche altri sistemi. Ripeto, io preferisco utilizzare dei prodotti tecnici, che almeno sono sicura che funzionano come si deve. Perché proprio questo qua è proprio un nemico. Questo è il nemico numero uno, penso, di tutte le pareti, chi non ha dovuto ridipingere per la muffa. E qui invece abbiamo un video che ci racconta, cosa ci racconti in questo video? Allora, dunque, in questo ci siamo cimentati anche su YouTube, ovviamente, dove abbiamo un po' di video. Qui abbiamo fatto un video su come coprire i colori fai, forti. Questo video è un video che è molto seguito, perché risolve un altro delle problematiche che si riscontrano. Anni fa si utilizzavano dei cori forti, ad esempio il rosso, il bordeaux, non so se vi ricordate l'arancio o il viola forte, nelle testate dei letti. C'è stato il periodo dell'arancione, c'è stato il periodo dell'illa. Ovviamente adesso... Ci sentiamo? Abbiamo perso Antonella. Infatti, probabilmente, c'è qualche problema di connessione. Noi ci senti? Allora, scusa che se il tono io... Voi mi sentite? Sì, probabilmente il video ci dà qualche problema, forse. Sento, io mi sento. Sì, forse c'è dei problemi con il video, proviamo. Magari fermo il video. Forse no, proviamo magari... Pronto? Proviamo di nuovo. Proviamo di nuovo, vediamo che parte. Ecco, adesso arriva. Eccolo qua. Vediamo se riusciamo a farlo partire, perché con lo streaming a volte... È un po' problematico. Eccolo lì. Sì, sì, io lo vedo. In questo video ci spiegate uno dei trucchi per passare da una parete con un colore molto forte a un bianco, mi parli di vedere, quindi non so quante mani di colore e io da profana passerei. È vero, è vero. Allora, praticamente, che cosa succede? Che... Qua abbiamo fatto l'esempio proprio a estremo, il rosso. E' il colore più... Insomma, più problematico. Generalmente, un po' tutti cosa pensiamo? Vabbè, invece di dare due mani gliene darò una terza, una quarta. Però chissà perché... Ma c'è... Quando si asciuga... Quando si asciuga... Una crosta così di colore. Quando si asciuga, che cosa succede? Succede che viene fuori quel rosino. E uno... Di bianco e bianco. Diventa... Diventa, diventa... È partito il video, guarda. Diventa mazzo e dice, ma perché? Era bianco e... E adesso, invece... Invece no, continua a venire fuori, insomma, questo rosino. Allora, noi in questo video consigliamo come fare. Se volete, vi delucido. Dopo ricordiamo, chi ci sta seguendo, che possono andare nel canale, nel vostro canale YouTube... Esatto, per vederlo un minuto. ...e riguardarselo con calma tutto il video. Poi ce ne sono anche altre all'interno del canale, molto interessanti. Quindi ci sveli questo trucco. Siamo tutti orecchie? Ma sì, ma per voi questo è altro. Allora, dare tante mani di colore bianco, in questo caso, ma comunque, non so, uno vuol fare un nocciola chiaro, ma deve andare sopra una parete così, con questo colore così forte, diventa problematico. Perché comunque, ripeto, in trasparenza lo si vede sempre. Allora, c'è un colore che va a neutralizzare questo problema, ed è il grigio, generalmente il grigio perla. In poche parole, uno cosa deve fare? Stendere il grigio perla, dopodiché, una volta asciutto, può procedere con le due mani classiche di bianco. Ovviamente, sottolineo ancora, che i prodotti, di non prendere prodotti troppo economici, perché quelli contengono molto acqua, quindi prodotti di qualità. Però con tre mani uno se la cava, ecco. Un rosso Ferrari a un bianco ottico con tre mani di colore, semplicemente. Sì, infatti, dal lato, vabbè, adesso qua vedete il fermo immagine, comunque, dalla parte mia, penso che si riesca a vedere che si intrade questo rosino. Sì. Dalla parte di Francesca, invece, dove è stata fatta questa prima mano di grigio, il bianco è proprio un bianco candido. Bianco candido. Quindi, ritornare bianchi si può, dai. No, ma è una cosa che sicuramente ha creato, come hai detto te, anche, non so, uno entra in una casa in affitto, trova le pareti di questi colori, dei precedenti. Poi, i colori sono a periodi, lo sappiamo, magari ci sono dei periodi dove vanno le tinte più tranquille, tipo l'azzurrino, il verdino salvia, come va adesso. Però ci sono stati dei periodi, mi ricordo, con degli arancioni, dei viola, dei lilla, per cui belli, magari per un anno e poi uno dice, oddio, adesso no, vorrei tornare a un colore un po' più tranquillo. Non ce la può fare. E invece Antonella ci ha spiegato come farlo. Sì, anche perché adesso la tendenza, come sapete anche voi, sono questi colori neutro, pastello e via dicendo. Quindi colori forti magari lo si fa solo su una parete, però appunto, come giustamente dicevi tu, se uno va in una casa di affitto, ci può essere il mondo, ci possono essere i blu anche molto forti. Sì, ma il problema non è solo del rosso, il problema è del blu, anche del verde, quando sono forti. Se sono colori tenui, no, però questo è un po' il discorso della problematica, insomma, che troviamo. Ci sono anche altre problematiche che riscontrano le persone che ci leggono, no? E noi cerchiamo sempre di fare anche articoli in base a quello che ci chiedono, in modo da essere, insomma, di entrare un po' più nel dettaglio. E a volte, oltre a un discorso di colori forti, ci troviamo anche di fronte a delle pareti che sono problematiche. Ora spiego in che senso. Possiamo avere pareti che sono in intonaco civile e noi vorremmo avere qualcosa di carino, non proprio vedere questi classici grannellini, oppure situazioni come vedete qui, che è stata proprio una cosa pazzesca, perché era un intonaco civile ed erano state fatte delle stuccature lisce. Quindi avevamo delle bolle, cioè delle aree, insomma, sì. Avevano spostato l'impianto elettrico e diciamo che chi ha fatto il lavoro, diciamo, si è un po' inventato, perché ci sono stucchi anche idonei per pareti, insomma, non lisce. Invece questa persona ha utilizzato questo stucco liscio, poi anche il muro diciamo che non era dei migliori, perché è un vecchio cascinale e questa è la situazione di una delle tante pareti. Ecco, quindi cosa fare? Qui abbiamo due alternative. L'alternativa è far rasare il muro totalmente, quindi far dare a un applicatore il gesso in maniera da mettere insomma in piano e formarlo. Esatto. L'altra alternativa, un pochettino più rapida, e se posso permettermi un pochettino più bella, anzi molto più bella, è quella di utilizzare dei prodotti materici o delle pitture che vanno a mascherare. In questo caso abbiamo utilizzato una pittura sabbiata, che viene stesa semplicemente con un pennello a mani incrociate, sempre dopo aver messo l'apposito fondo, e questo va proprio a... non risolve il problema, ma lo maschera talmente bene che uno non se ne rende neanche conto. Un piccolo suggerimento in questo caso è quello di utilizzare però prodotti opachi. Non effetti lucidi, effetti brillantinati, effetti glitter, no. Ma i glitter si possono mettere anche sull'opaco, quello il problema non c'è. Il problema grosso è mettere prodotti lucidi o perlati, ma soprattutto lucidi, cioè più il prodotto è lucido più evidenzia le magagne, come si dice, no? Ecco, qui si poteva fare anche uno stucco, come quello che vi avevo fatto vedere all'inizio, quindi un materico. Qui invece si è scelto qualcosa di molto più soft, dove si creano queste dune di sabbia e questo crea questo movimento che va a mascherare totalmente tutto il problema che avevamo alle spalle. Sono facili da applicare, Antonella, questi effetti sabbiati, nel senso che per una persona normale, magari con una buona manualità, può cimentarsi o c'è bisogno di una mano o di un professionista? Allora, se uno ha una buona manualità, può assolutamente farlo. C'è gente che fa comunque qualcosina in casa, quindi può anche provare a farlo. Io consiglio di fare un tentativo o su un pannello, oppure dietro un mobile, perché così dopo c'è sul mobile, non si vede il problema, però uno inizia a allenarsi un attimino su un pannello, una parete di una cantina, insomma giusto per prendere un briciolo di confidenza. Sì, perché questo non si utilizza la spatola, si utilizza proprio un pennello, generalmente uno spalter che sono quei pennelli un po' larghi, schiacciati, oppure quelli un pochettino più spessi, però si può fare. C'è anche un'altra cosa. Un argomento che da solo meriterebbe forse un altro appuntamento, quello degli strumenti, cioè non è che c'è solo un pennello o solo una spatola. Mi sembra di capire che i professionisti usino tanti tipi, logiche di attrezzi, rulli e varie combinazioni, probabilmente a seconda dell'effetto che volete o della parete, non so secondo quali criteri scegliate. Certo, assolutamente sì. Chi è alla prima esperienza deve essere tranquillo e chiedere, perché chiedere non costa nulla. Ci sono anche dei negozi che comunque danno i consigli, appunto su questi effetti un pochettino più semplici. Noi abbiamo messo il nostro con questi articoli e con YouTube, poi facciamo periodicamente anche dei corsi per chi vuole imparare, sia per quanto riguarda il styling dei mobili, che queste fatture decorative un attimino più semplici, quindi diciamo gli strumenti ci sono se uno si vuole cimentare. Basta avere volontà, ma soprattutto una cosa importante, che è la passione, che deve piacere. Non bisogna partire così per la fretta di fare. Come diceva, mi sembra anche la tua collega l'altra volta, bisogna avere pazienza prima di arrivare al risultato, perché la qualità non si raggiunge così al primo tentativo. e quindi prove... Francesca, mi ricordo che ci aveva dato molto dell'attenzione particolare all'inizio, nella fase dello studio, quindi nella scelta, come dicevi tu Sonia, dei materiali da utilizzare, degli strumenti adeguati, in questo caso i pennelli o quello che può servire per l'applicazione, e poi una volta che tutto è stato studiato, l'esperienza sicuramente, le prove, e anche gli errori a volte, perché si impara anche dagli errori, no? Assolutamente sì, io e Francesca ne abbiamo fatte peggio di Bertoldo, nel senso che comunque... Eh sì, perché, vabbè, noi frequentiamo ancora tuttora, perché bisogna sempre andare avanti, anche corsi sempre più avanzati, poi ci facciamo le nostre belle prove, perché comunque dagli errori si impara. E poi i nostri errori ci aiutano anche a poter dare dei consigli a chi si trova all'inizio, insomma, e quindi possiamo dare dei suggerimenti, si fa anche due o tre risate, perché no? Probabilmente nel vostro caso saranno anche esperimenti, cioè se volete proporre anche delle cose nuove, immagino che, insomma, la via dell'esperimento per un artista sia un percorso quasi obbligato. Assolutamente sì, a volte è pazzesco, perché dagli esperimenti non vengono solo fuori stupidate, a volte vengono fuori delle cose che uno non si aspettava. Quindi sperimentare, sperimentare, questo è un po' il nostro motto, perché... E poi testare i prodotti, anche le case produttrici ti danno uno standard, però bisogna andare un pochettino anche oltre a questa cosa, metterci un po' di fantasia. Poi vengono fuori anche delle cose che lasciamo perdere, però. No, vabbè. L'angolo degli orrori, no? Dove si mettono tutti i pannelli... Agliati. E si raccontano dietro qualche armadio, magari. Sì, 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 infatti. Poi queste pitture decorative, per riallacciarmi anche al discorso che avete fatto con Francesca, sono pitture che con un fondo idoneo possono essere anche applicate sui mobili. Quindi non li scriviamo. È la mia passione, quindi devo spendere una parola. Anche questo effetto ruggine, ad esempio, può essere applicato sulle pareti, che ne so, penso in un soggiorno, magari una madia, un piano di un tavolino, si possono applicare anche proprio sull'arredo, quindi. Sì, si possono applicare sugli arredi, i materici bisogna essere sicuri che il supporto sia bello rigido, non flessibile, perché il materico ovviamente fa, seppur di pochi millimetri, ma fa uno spessore. Certo. E quindi, se andiamo su qualcosa che è un po' flessibile, rischia di creparsi. Poi si crepa. Esatto. È consigliabile una pittura, una pittura, non uno stucco, perché c'è da distinguere queste due cose. Lo stucco è il materico, e la pittura invece si fa generalmente col pennello, con le spugne e quant'altro. Gli argomenti sono veramente tanti, perché veramente nella decorazione c'è un mondo ampissimo, veramente, veramente ampio. C'era un'altra cosa che volevi farci vedere, mi ricordo? Sì. Molto interessante. L'abbiamo spoilerato, perché è una novità almeno. Io ne avevo letto un po' in G, insomma, si legge, si era sentito dire, però sono molto curiosa di sentire il tuo parere, cioè il parere da chi l'ha fatto veramente, perché un conto è sapere che ci sono certi prodotti che fanno certe cose. Un conto è crederci. Vederle fatte. Esatto, vederli fatti poi da un professionista che ti dice che effettivamente si può fare. Stiamo parlando di pavimenti. Esatto, esatto. Siccome... Siamo sentati dalle pareti ai pavimenti. Esatto, perché è giusto. È giusto così. Adesso ingrandiamo esattamente così chi... Sì, perché questo penso sia una cosa che molti delle persone a casa ci faranno un pensierino. Sì. Quindi cosa vediamo esattamente in questa slide? Documentala, perché io subito all'inizio non l'avevo capita, quindi magari chi ci ascolta... Assolutamente. Indurre in... Qualche... Cadere in qualche... Indurre in tentazione di capire una cosa diversa, diciamo così. Invece questa parte che vediamo qua grigia... Allora, no, partiamo da quella centrale. Quella marroncina, begiolina, insomma, è un... non è un palchè, è un finto palchè, sono dei quadrati in laminato che riproducono il legno. Qui si erano un po' stufati della situazione che comunque non era molto moderna, volevano realizzare qualcosa di più moderno e più attuale. E allora, inizialmente, volevano mettere le resine, che sono tanto una bella cosa, però ovviamente i costi cambiano un attimino. C'è un'alternativa a quello che... anche se questa è comunque una resina, perché le resine, come intendo io, sono quelle bicomponenti o tricomponenti, cioè sono l'insieme di due componenti da miscelare, a volte anche tre. In questo caso monocomponente. Praticamente, per chi non conosce questo termine, è praticamente una, diciamo, pittura con all'interno una resina molto forte che è monocomponente, quindi è un prodotto già pronto per l'uso. È piuttosto denso, quindi viene steso esattamente come si stende la nostra pittura murale, con la differenza che lo si fa in orizzontale. Essendo materico, qua vedete delle piccole fughe, è andata un po' a compensare, infatti non si vede, una volta finito il lavoro, non si vedono assolutamente le fughe. Infatti, vedo nella stanza in fondo dove c'è il controluce, si vede che la fuga non si nota più, non c'è più. No, no, esatto. Ovviamente, attenzione, se le fughe sono più larghe, allora prima c'è da fare un, bisogna stuccarle, insomma, e portarle a piano, portarle a pari, perché se no si vedrebbero. In questo caso, siamo stati piuttosto fortunati, non c'era bisogno di far questo, perché le fughe erano proprio molto, molto piccole, si parlava proprio di pochissimi millimetri, esatto. Questo, come stavo dicendo, appunto è un prodotto monocomponente, si stende a due mani con il rullo. Ecco, quello che è importante, quando si applica questo, questo vale come le resine, bisogna avere un ambiente completamente pulito, quindi aspirato, lavato, tutto quanto, perché una briciolina, un pelettino, un po' di polvere, creerebbe un po', poi si attaccarebbe, diciamo, la vernice e diventerebbe un po' antiestetico. Quindi bisogna stare attenti, appunto, ad avere questo, questo pavimento bello pulito e viaggiare con dei calzari o meglio ancora anche con delle calzine di cotone, man mano che si avanza. In questo caso abbiamo dato due mani e si è lasciato asciugare tra una mano e l'altra e il risultato è quello che vedete, quello grigio, è molto bello, perché poi è lavabile. Sì, è molto bello, lavabile. E quindi ha un costo anche, dicevi, inferiore rispetto alle... Assolutamente. Quindi dopo lo lavi con un normale pavimento? Sì, assolutamente sì. Ovviamente in queste situazioni non si possono, cioè non si può utilizzare qualcosa di abrasivo, ma si va con un panno umido, con un detersivo non troppo forte. Agressivo, vabbè. Se prima c'era un legno, indubbiamente non davano acidi neppure prima, quindi è ovvio che... No, assolutamente. Però ecco, questa soluzione la consiglieresti, ad esempio, non so, per case che vanno messe in locazione, situazioni dove magari non si vuole investire molto, giusto, però riescono a rinnovare molto. Esattamente. Questo è uno dei tanti prodotti per quei lavori di rinnovamento e per rendere insomma più gradevole l'ambiente, che ovviamente non sono una cosa definitiva, perché insomma la piastrella è la piastrella, il panchè è il panchè, lo sappiamo tutti. Però dura qualche anno, dura assolutamente sì, ci si cammina, si fanno le cose come in un pavimento normale. Ovviamente se in qualche punto dovesse, magari perché, non so, faccio l'esempio di una sedia con le rotelle sotto, che fa avanti e indietro, avanti e indietro ovviamente lì va a sollecitare un attimo la superficie, e qua si possono avere dei graffietti che comunque possono essere ritoccati, ma questo succede anche nel panchè. No, infatti la sedia a rotelle in generale, se non hai la ceramica, è difficile sostenerla, nel senso che in qualche maniera non ne fa. Quindi... No, 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 qualsiasi cosa che con le rotelle, vedo anch'io, sto guardando la mia. Il panchè poi. No, poi è molto interessante questa, credo che... Sì, penso anche appunto, come dicevi te, seconde case, case in affitto, case dove magari c'è una coppia giovane, vuol dare un restyling, senza svenarsi magari come il primo periodo, ecco che questa è veramente... Immagino che poi ci sia oltre che a grigio altri colori, per cui ci può essere veramente una soluzione veloce, anche perché poi in quanto tempo si può fare un pavimento del genere, cioè tra la pulizia e l'applicazione, parliamo di giornate. Allora, innanzitutto dipende dalla superficie, perché se parliamo solo di una stanza è un conto, se parliamo di una casa che ha 5 o 6 locali, ovviamente un altro. Ecco, però parliamo di una stanza tipo un 4x4, tanto per dare un'idea, nello stesso giorno si può pulire e dare già la prima mano, e il giorno successivo si dà la seconda mano, quindi... Anche molto veloce. Certo. Nel secondo giorno la stanza poi si può riallestire nuovamente, insomma. Sì, io consiglio sempre di aspettare un 48 ore almeno, prima di... perché il giorno successivo la prima mano è già asciutta, e dopo 24 ore anche la seconda mano è già asciutta, però all'interno deve ancora consolidarsi, quindi più tempo si aspetta, meglio è. Minimo 48 ore, ecco, il consiglio che do io. Poi dipende anche dal prodotto a prodotto, perché in commercio ci sono varie tipologie, ecco. Antonella, sul più bello, è rimasta... Eccola qua, ti sentiamo. Antonella, ti sentiamo. ok. Il tempo della diretta... Avete perso qualche pezzo? No, no, direi che appunto stavi parlando... Ci sei? Sì, c'è un po' di ritardo. Allora, io approfitterai di questo piccolo problema tecnico per intanto ringraziarti della tua disponibilità e consigliare a tutti poi di andare a visitare il vostro sito e blog, lacoloratrice.com, eventualmente porvi altre domande tecniche o contattarvi. Vedo che c'è qualcuno che ha chiesto se vi portate su tutto il territorio nazionale, e se anche all'estero, quindi bene. Qualcuno è in persona da farvi viaggiare. Esatto, me lo auguro. Forse non subito, adesso c'è da scoprire un attimo, però magari più avanti, chissà. Certo. Grazie perché queste, credo alcune siano anche novità, come dice, se ne legge, se ne sente parlare, però poi l'esperienza diretta è sempre quella che serve di più per rendere effettivamente l'idea di quello che si può realizzare in casa. Quindi, grazie ancora per aver partecipato, un grazie anche a Cristiana. Grazie a voi, grazie Antonella, Grazie a voi. Prima di lanciare la sigla, volevo solo ricordare a chi ci segue di iscriversi al nostro gruppo Facebook Home Lovers, che è collegato alla pagina Facebook di Homestyle Blots, così potete rimanere aggiornati sulle prossime dirette, e se avete delle proposte a livello di temi che vorreste fossero trattati durante i live talks, cercheremo poi gli esperti e li porteremo qui sulla nostra pagina prossimamente. Quindi lancio la sigla, grazie e un salutone a tutti quanti. Ciao, grazie mille, ciao. Ciao, grazie a tutti.